Mi chiamo Paolo Dandì e sono un meme creato. Per milioni di persone in tutto il mondo, i meme sono la fonte principale del consumo quotidiano di ironia. Sui social, certo, ma non solo. I meme sono i cromosomi culturali con cui si trasmettono nuovi pensieri. Riescono, in una sola immagine, a trasmettere idee ed emozioni. Che c'è di meglio del ridestare la mente con un sorriso? Questo bollitore ad esempio si ispira ad una palla da curling. Crede nell'ironia e ci crediamo in tanti. La scienza inesatta che procura una risata dell'intelligenza. L'ironia che dove passa scioglie il ghiaccio facendolo evaporare in una ritata. Magari è l'ora del tè.